3,2,1 botteee scrivo la mappa di p allora tutti assist, davvero no, una kill questo no double dove va questa dovrò stittarla io ma intanto sta facendo appunto il bottee che mi ha ucciso mi ha ucciso Vivian ma, maledetto vivian si 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 ucciso ucciso tripla vai quadra dove la quadra dove la quadra stai con la camera 30 sua sorella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, che ultimo. Che ultimo. Oh, 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 che ultimo.